e vi chiedo di ascoltare questa breve comunicazione. Per evitare il diffondersi del coronavirus, si raccomanda alla cittadinanza di evitare aggregazioni, mantenendo la distanza di un metro fra persone. Si raccomanda inoltre di ridurre al minimo le uscite da casa. Ci si può spostare solo per ragioni lavorative o per altre necessità urgenti. Seguiamo insieme le norme di comportamento indicate dal Ministero della Salute e facciamo la nostra parte. Andrà tutto bene. Un saluto, Alessandro Ferro. Premi un tasto dopo il segnale acustico.